ANSA, Roma, 38, la legge Ricchetti sui vitalizi non è populismo, ma politica. È una nostra battaglia dalla Leopolda 2011, non fermiamoci adesso. Diesis avanti. Lo scrive su Twitter il segretario del PD Matteo Renzi. Ieri a Napoli, ho chiesto ai senatori di approvare la legge Ricchetti e di approvarla subito, così com'è, ha poi spiegato Renzi su Facebook.Abbiamo iniziato questa battaglia alla Leopolda nel 2011. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti in questi anni. Ora c'è da fare l'ultimo miglio e per me va fatto subito. Perché approvare la legge Ricchetti non significa fare un favore al populismo, significa fare un favore alla buona politica. Avanti, conclude.